Una foto che non lascia spazio a interpretazioni e che mostra una paziente ricoperta da centinaia di formiche stesa sul letto dell'ospedale San Paolo di Napoli. Una nuova emergenza in Campania fa tornare in ass tra le corsie come accade per i malati curati a terra di Nola. La procura partenopea ha aperto un'inchiesta e oggi è stata mandata alla task force dal ministro della salute Lorenzin. Non è neanche terribile indegna, abbiamo appreso la notizia dai siti, dalle prime indagini che è emerso che c'era un lavoro all'interno del reparto, dei lavori e poi hanno trovato queste lenzuola infestate in un magazzino. Intanto al San Paolo è già partita la bonifica del reparto di medicina generale dell'intero ospedale ed è stata aperta anche un'indagine interna. Mi prendo le mie responsabilità, sono mortificato, ha commentato il direttore sanitario, ma sono in carica da soli 20 giorni. La strategia attuale è provvedere nell'immediatezza e ad ora si possono chiamare ditte specializzate che intervengono. Già è intervenuta la ditta di bonifica, queste cose erano già messe in agenda, le abbiamo solo anticipate, ma erano già in agenda perché non abbiamo il potere dall'oggi al domani di farle. Se è stato possibile, perché tutte le procedure a monte erano già state messe in essere. Non si parla di sola mala sanità in Campania oggi, ma anche di malcostume nel mondo medico, con l'ennesima truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale scoperta dai carabinieri nel Napoletano. Cinque amministratori di sette centri tra Napoli e Caserta sono finiti in manette per aver dichiarato di aver effettuato TAC e risonanze magnetiche a pazienti che però erano completamente all'oscuro di tutto. I arrestati sono accusati di associazione a delinquere, finalizzata la truffa ai danni dello Stato.